Belline, c'ha lo strappo, tutto di pelle della Primici. Belle, belle. Primici ha fatto un bel campionario quest'anno. Queste, queste, guarda. Ma poi sono belline perché si è adattato anche da queste qui da maschi. Sì, sportive. Queste qui ci vanno a giocare un po' giorno. Poi sono fatte in Italia, hanno tutta la fodera in pelle, belline. Poi vedi ci sono proprio sandalini, da quelli un pochino diciamo più elegantini, no? Dall'infradito, con questi frellini. Sono andate bene anche io. Ah, poi guarda, c'è la zeppa, quelle che piacciono ora alle bimbe. Fede ha già preso subito questo, l'ho visto a casa. Gli piacciono? No, venne e mi disse mamma me lo posso prendere. No, queste sono belline, veramente, però insomma è un po' presto con questa zeppa. Allora lo sai che le piacciono? Ma lei non l'ha preso per il regalo, perché qui c'è il regalo, lo so, eh? Lei l'ha preso per la zeppa in questo caso. Gli piace essere un pochino, un pochino più fashion, come dice tu. Belline, ballerine, guarda queste infradite, anche le belline. Ah, perché queste qui, delle Lally Kelly, ma poi i regali che ci sono, io a casa non ci sto più con i regali, eh? Non ci credo. O quest'anno abbiamo più sandalini, ah belline anche queste qui con questa sola bellina più larga, no? Guarda, guarda. Guarda come sono. Sì, a queste, qui siamo, siamo, il negozio. Guarda, guarda. Silvia, ti chiamo Federica, tu te ne vuoi. Eh, fa bene perché guarda, queste scatte qui se le metterebbe tutte. Eh sì, grazie. Abbiamo il negozio dove trovate la scelta più ampia di Grulland, anche da bambino. Vedete? Qui siamo nel 31, poi ci sono nel 20, nel 37, tutti i numeri da ragazzo. L'abbiamo anche da donna, l'abbiamo anche da uomo, ma solo di bambino, di Grulland Junior, ditta leader di questo tipo di prodotto. Guardate, in questo numero abbiamo 30 modelli, solo di Grulland, poi l'abbiamo anche di altre marche, c'è da maschio, vedete militare, mimetici, più aperti, più chiusi. Ah, bellina quella anche dei pirati, guarda, della Biomodex. Fanno vedere qualcosa anche da maschio. Sì, dei pirati della Biomodex. Grazie, giuste. Già, bellina. Poi c'è tutta la collezione dell'asso, dai sandali alle ballerine. Guarda, guarda queste, Fede. Sì, Fede, dagli, dagli a questo Fede. E la chiamiamo, siamo nel reparto di Federica e Riccardo. Ogni momento lo sto a chiamare Federica. Marcello, guarda come anche queste scarpine qui. Aspetta, fammi dire queste cose. Quando vengo qui le tocco tutte. Queste, queste sono dell'asso, belle, con il loro regalo, eccetera, tanto le bimbe lo sanno. Abbiamo un assortimento anche di asso incredibile. Ma non mi sono bellina. Abbiamo anche, Silvia, ma si fa una cosa, anche nel mese di giugno al Bottegone. Siamo aperti tutte le domeniche, venite, orario di negozio, tutti i giorni, anche la domenica, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20. Facciamo una cosa. O dimmi cosa si fa. Facciamo una cosa. Cosa si fa. Continuerei la promozione del bambino, che abbiamo fatto a maggio, con grande successo. Sulle scarpe chiuse da bambino e da bambina, da ragazzo e da ragazzo, da numeri più piccoli, come il 16, come il 40 l'abbiamo noi, i numeri nel reparto da bambino. Facciamo lo sconto del 20% extra alla cassa sulle calzature chiuse. E chiuso vuol dire anche una ballerina che serve adesso. Mamma mia. Abbiamo un taglio a... Chiuso vuol dire anche la tennis. Sì, anche le tennis di tutte le aziende, le Adidas, le Nike. Abbiamo le Primigi, abbiamo le Nero Giardini, abbiamo le Geos. Su tutte le calzature, c'è un assortimento clamoroso di sandali. Che scarpe. Mentre sulle calzature chiuse, da bambino e da bambina, da ragazzo e da ragazza, continua lo sconto del 20% alla cassa. Qui c'è la Skechers. Anche di grandi, di grandi marchi. Nero Giardini, Adidas, nei loro prodotti proprio modaioli. Puma. Guardate anche questa della Puma. C'è da maschietto e da femminuccia. Sulle scarpe chiuse, cioè, su queste... La Gioma. Della Geos. Sì, anche su queste. 20% alla cassa di sconto. Basta venire alla Orosi di Ricciola, dove c'è il bottegone della calzatura. Com'è questa qui, col cuoricino? Allora, sì, allora, per tutto giugno il 20% di sconto alla cassa per tutte le scarpe chiuse da bambino. Si continua? Certo, certo. Senti, ma per le mamme, per le donne? Sì, tra le mamme. Voi siete già passate... O faccio qualcosa anche da donna. Faccio. Ho capito, ma me lo pò di davanti. Sì, è questa violenza. Non puoi davanti alla telecamera ti rammentarmi dello sconto tutte le volte. No, bisogna farne anni prima. E ti guardano le donne. A lui fa felice, no, perché poi... SOS, al bottegone, SOS, si salvi chi può. Prima le donne e i bambini, si dice. Prima le donne e i bambini. Va bene, vai. Non ci voglio passare male. Allora, sconto del 20% sulle scarpe da bambino e da bambina, quelle chiuse, e altrettanto da donna, va bene? Oh via! Quindi, sulle scarpe da bambino, quelle chiuse, eccetto quindi i sandali, femmine, maschio, in tutti i numeri, e anche da donna, alla cassa, sconto il 20%. Quindi cosa vuol dire? Sulle scarpe cinniche, sulle scarpe sportive, anche da donna, sulle decoltè, su tutto l'assortimento, che poi magari vi faremo vedere in altre trasmissioni, alla cassa, il mese di giugno, sconto il 20%. Venite a risparmiare e a vedere anche tutto l'assortimento che è già arrivato al bottegone, di sandali, eccetera, anche da donna, zeppe, eccetera. In più alla cassa avrete lo sconto del 20% sulle scarpe chiuse da donna e da bambino e da bambina. Bravo, ora mi ha accutato. Oh via, ora andiamo di là, ti ho detto una cosa in un orecchio, spoglietti vai. Ah ma, ho capito, aspetta, si mette a posto, non c'entrano più, è inutile che arrivano, loro le mandano perché le ordinate, ma più c'entrano più. Ma la gente, quanto viaggia qui? No, belle, eh? Da tutti i prezzi, da tutti i prezzi. Quanto viaggia qui? Tanto, tanto, ma guardi. Qui c'è il bagaglio a mano, per Ryanair, il bagaglio medio. Ti volevo di... Sei parlato con Silvia di una cosa. Voi mi fate acciucchi. Senti, da bambino e da donna sul chiuso, promozione 20%. Non me la... Cosa vuol dire questa cosa? Cosa, 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 cioè, cosa vuol dire? Cosa, no, spiegamela un po', cosa vuol dire? Ah, da bambino, si è fatto questa promozione a maggio che è andata benissimo. Riproponiamola e poi 20% sul chiuso da donna, così. Sì, così, così. Io lo so perché, è quell'altra che ti mette nel capo le albagine. Chi è? Lei, Silvia. No, quella è una valigia che mi ha messo a posto. Silvia, eh, anche quella, fra l'altro, un altro colore. Lei, lei cosa ha fatto? È venuta, ha scelto la valigia quella più grossa che c'è, il colore nuovo. Ci si è abbinata la borsa dell'aroncato. Sì, che ce l'abbiamo. La borsa tutta abbinata dell'aroncato. Abbinata alla valigia proprio sotto colore. Belle, lavabili, robuste, pratiche. Perché abbiamo anche le borse, noi, volendo abbinate le valigie. E poi, come se non bastasse, ti porta anche... Abbasciatore non porta pena, dice. Ma lei l'ha portata. Io, io, mi sento male. Sconto il 20%. Siamo qui a parlare già delle valigie che non ci entriamo più perché abbiamo allargato il reparto. Che assortimento, tra l'altro. Quindi, continuo lo sconto il 20% sulle scarpe da bambino e da bambina, da ragazzo e da ragazza, alla cassa, sconto il 20% sulle scarpe chiuse. E in più, avete fatto, io mi si tiro fuori, poi vedete voi come giusti la stossa, lo sconto del 20% sulle scarpe, va bene, sulle scarpe da donna. Alla cassa, sconto il 20% sulle scarpe chiuse da donna, come se non bastasse. Poi c'è una maria di disandoli che devono sempre arrivare. Vabbè, andiamo avanti, poi ti starà a vedere. Poi, un giorno parto, prendo io le valigie e parto, non mi vedete più arrivare. Tanto vi... Intanto ce ne è tante, non c'è problema. Allora, fatti vedere qualcosa a nostri clienti. Noi qui, dare un cazzo. Per l'altro ho preso la valigia abbinata a una bella borsa. Cioè, poi non è che ho ordinato un colore solo, quello smerardonia. No, diamone, che dico. Qui, cioè, come la voglio, dall'arancio, dal giunnotte, nel nero. Sono andato a comprare l'altro giorno l'astuccio, l'astuccio alla mia bimba che tra poco va a scuola per il primo anno, la Federica. Ho aperto, sono belli da vedersi, no? L'astuccio, tutti i pennarelli colorati. Qui sembra di essere in cartelleria. Sì, sì, sembra l'astuccio dei pennarelli della bimba. Ho capito, ma qui sono astucci, sono valigie, c'è valore, qui c'è l'assortimento. Ma è estate, ci vuole il colore, ci vuole. Ho capito, ho visto, se ne vende tante, dalla cassa passano, a me piacciono particolarmente. Qui forse avete esagerato, ovunque. Facciamoli vedere qualcosa. Dicevamo, da tutti i prezzi, tipo bagaglio a mano Ryanair, tessuto o rigido. Qui si parte, da quanto si parte? Cosa? 59 euro. Sì, 55 euro. Vedo anche quello là. 55 euro. Ma si parla, cioè, non solo buste, buste, buste shopper, quelle che vi danno quando si fa. No, perché te ci ridi. Qui si parte di qualità. 50 euro, ma si parla di qualità. Se volete spendere meno, ho le buste di bottegone, di nylon. Ve le do, ve le do. Ve le regalo anche. Volete spendere poco, vi do le buste, capito? Noi vi si dà, siamo un'azienda seria, e vi si dà un prodotto serio, robusto e garantito. Certo. E vi si fa spendere poco. Se volete spendere meno, andate altrove. Noi non diamo sacchetti di plastica, diamo valigie. Quindi, risparmiate acquistando un ottimo prodotto, tra l'altro anche di marca. Ma non è solo lo sfizio di portare a giro una valigia di marca, o un prodotto di marca. Qui avete una garanzia di una valigieria che da 70 anni produce articoli da viaggio. Che fa questa cosa. Tutta lì la differenza. Se poi volete spendere meno, con il rischio di trovarvi a giro con il bagaglio scoppiato, andate altrove. Noi diamo prodotti di qualità, fra l'altro questi con design o di produzione italiana, dell'aroncato, di qualità, a un prezzo secondo me molto basso. Partiamo da circa 50 euro, poi chi vuole spendere di più con prodotti più particolari, tecnologici, avanzati, ce l'abbiamo. E ce lo trovate. Quindi, fanno vedere altre cose, poi il tempo è finito. Anche cose, l'aroncato box, in tutti i colori, nero, ciliegia, smeraldo, grande, medio, piccolino, come lo volete. Qui da noi ce lo trovate. Io so che ci sono dei borsoni abbinati, le valigie ci sono di tutte le misure, dal bagaglio anche per esigete, per tutti i voli a basso costo, fino ai traslochi. Ci manca solo il cambio dei traslochi. Quindi venite, chiaramente, al botecone della calzatura, se volete trovare un assortimento di qualità e di prodotti giusti. Fra l'altro, dell'aroncato, leader in Europa di valigie. Vi aspettiamo a giugno. Ciao.